Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Alessia e questo è un nuovo episodio di The Sims 4. Allora, siamo con Francesco e Alice e niente, semplicemente andiamo avanti. Ah, mannaggia! Gracie è in calore, dobbiamo assolutamente portarla a sterilizzare. Adesso lo lasciamo dormire tranquilla, ma in questo episodio sicuramente andremo a farla sterilizzare. Sotto lo scorso episodio in cui siamo stati con loro, mi avete detto di controllare questo jeb, perché a quanto pare è un gran fusto sotto il sacchetto. Quindi sono curiosa, dite che è uno dei pochi sim ben fatti, diciamo, fra virgolette, insomma, dalla Maxis. Quindi vediamo. Dopo lo inviteremo, non lo so. In qualche modo io devo vederlo, quindi può essere che magari lo invitiamo a casa e in qualche modo gli facciamo levare quel cavolo di sacchetto. Le mie piantine qua fuori. Allora noi vendiamo tutte le pere perché non ce ne ne facciamo assolutamente nulla. Una cosa che mi manca parecchio, se devo dirvi la verità, è l'estrattore di succhi di frutta. In modo da creare tipo il succo di frutta, non so, la pera, la mela o quello che è, con i vari frutti che noi coltiviamo. I nostri frutti purtroppo, più di metterli all'interno di alcune ricette non possiamo fare. Quindi direi innanzitutto di andare a urca, no, di sgridare innanzitutto Gracie, in modo che impari a non bere nelle pozze. Ma la stanno sgridando in due? Può essere, nella serie, cazziata da entrambe le parti. Allora andiamo con Francesco e Gracie e la sterilizziamo. Arrivati, chi c'è qua prima di me? Possibile che ci sia sempre qualcuno prima di me? Veniamo qua, registriamo Gracie per la sterilizzazione, in modo che quando tocca a lei, guardate che differenza, lei è piccolissima ed è già un'adulta. Mamma mia, speriamo che lui non la monti della serie così all'ultimo minuto. Perché sembra... Ah, è stata sorpresa a rubare, ma cosa volevi rubare? Scusami, domando, cosa volevi rubare? Ma da qualche parte noi abbiamo i biscottini per Gracie. Aspetta che non lo so se abbiamo i biscottini per Gracie. Adesso lui era a farsi coraggio allo specchio per provare a risparmiarsi l'imbarazzo della figura di M. Io non mi ricordo se li ho, ma nel dubbio li prendo, visto che ci sono. Signora, buongiorno, proprietaria di animale. Presentazione rispettosa, deve essere una cosa nuova che hanno aggiunto. Ah, è l'inchino alla presentazione alla giapponese, cioè... Sì, con quel leggero inchino in davanti, ecco. Non saprei come spiegarmi. Allora... Io sento ancora i cuoricini di Gracie. Non tocca ancora a noi? Ah, sì che tocca a noi. E Gracie invece si era persa nell'universo. Speriamo che la sterilizzazione vada a buon fine. Sì, è andata. Ok. Molto bene. Signora, la ringrazio. È stato molto piacevole fare due parole con lei. Magari ci rivedremo, magari no. Non lo so. Deciderò al momento. Andiamo che tanto si sono fatte le otto e mezza. Rientrati a casa, lei è davanti alla TV. Io ogni tanto do un colpetto qui al murales, in modo che, insomma, vediamo una ravvivata ogni tanto. Perché poi avete visto quanto è migliorato. Invitiamo questo Jeb nel nostro lotto, perché sono curiosa di vederlo, visto che mi avete decantato le sue lodi in lungo e in largo. Adesso sono curiosa di vedere se effettivamente avevate ragione o se si boni da un colpo, insomma. Ok. Arriverà presto. E adesso la vera lotta sarà togliergli il sacchetto. Cioè, perché ha il sacchetto poi? C'è un abito in cui lui non ha il sacchetto? Credo sia questa la domanda fondamentale. Forse è il costume da bagno. Fatti vedere il costume da bagno, che almeno ti vedo in faccia. Ah, il sacchetto anche così! Ma no! Adesso intervengo io e gli levo il sacchetto, perché, a quanto pare, forse ha il sacchetto anche in pigiama. Cioè, allora, proviamo l'ultima volta in pigiama. Abito da notte. Perché il sacchetto fisso, poi? Mi fai vedere il pigiama, sì o no? È timido. L'addomina... È troppo imbarazzato. Allora, intervengo io. Gli levo quel sacchetto, perché voglio vedere che faccia c'è. Allora, già che c'ero, gli ho dato una leggera sistemata. Gli ho cambiato il taglio di capelli, e gli ho aggiustato un attimo i vestiti, ma non ho messo mani sui tratti del viso o la fisicità. E ora ve lo mostro in faccia. Ecco a voi, ragazzi, Jeb Harris. Mic drop. Cioè, avevate ragione, porca miseria. È uno dei più meglio riusciti dalla Maxis. Complimenti. Un gran bel... Tocco di gnocco. È inutile dire che, insomma, la nostra Alice... Cioè... Allora, è... Inutile dire. Lo rivestiamo, poveretto, almeno... Con gli abiti quotidiani. Che gli ho tenuto il suo olio, se lo ho messo le scarpe, perché questo andava in giro, praticamente, a piedi nudi, costantemente. Ma a parte quello, adesso voglio che loro due pian pianino magari diventino amici. Direi che è il primo step da fare. Allora, qua c'è anche da mangiare. Mangiamo insieme a Jeb. E Francesco... Beh, vabbè, che venga a mangiare anche Francesco, allora. Ma Jeb? Dov'è? Jeb? Jeb? È morto? Jeb? No, deve essere anche da qualche parte, ma non saprei dove. Nei dintorni, comunque. Visto che non me lo fa invitare, che non sia andato qua. È lui? Sì, è lui. Che sia tornato da noi a mangiare? Forse sì. Eccolo qua. Vieni Jeb, dai. Allora, è tanto carino. Ammetto, ammetto. E niente, quindi adesso, innanzitutto, noi ci diventeremo molto amici. Molto, molto amici. ho detto molto. E dopo vedremo l'affare, insomma. Vabbè. E intanto voglio anche conoscerlo, voglio un attimo capire che tratti ha. Io li ho visti quando sono entrata nel CAS, però la nostra Alice non è alla più palida idea, poverina. Allora, lui è buono. Vi dico già che come aspirazione lui ha anima gemella. Quindi lui vuole innamorarsi. Teoria, forse, dovrebbe essere anche romantico. Forse. Puging! È parecchio presa quando racconta le sue cose, no? Il sacchetto, il sacchetto, ma cosa sto dicendo? Il ragazzo col sacchetto in testa. Di solito si dice tutt'altro. Provoca senza pietà. No, 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 è perfida. No, 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 no. No, 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 no. Di solito si dice sacchetto in testa e il coso fa festa. Però non è il nostro caso. Noi abbiamo tolto il sacchetto in modo da poter far festa. Che persona poco profonda che sono. mi stupisco di me stessa ogni tanto. Mi fa piacere che le mie battute sui lama non ti sembrino trite e ritrite e ho l'impressione che tu mi capisca. Quella là! Vicinanza maggiore per i ricordi felici. Alice si sente vicina a Jeb grazie e bei ricordi e bei momenti insomma. Bene! Eh, questo può essere veramente l'inizio di una bella amicizia. Serena vorrebbe venire da te a passare del tempo insieme. Sì, dai! Così vediamo la pa... Pessimista! No! Dai, poverino! Vediamo a che punto è la panza! non le è piaciuto il mio regalo. Oh, signore! Ma la panza è enorme! È enorme! Non ci credo! È bello che qua non abbiamo neanche nessun medico da poter... sì, insomma di cui poter usufruire per sapere il sesso del bambino. Dovremmo scoprirlo alla nascita. Pampini! Cos'è? Ci ho già detto che sono due. Pampini! Poveretto Francesco vorrebbe solo fare la pipì e noi invece siamo in bagno a rompergli le scatole. Vabbè, Francesco, vieni qua di sopra. Oh, il festival della neve! È uno dei festival nuovi con la nuova espansione oasi innevata. Sapete cosa facciamo? Noi ci andiamo anche. Ci andiamo con i nostri amici direi. Con il club potremmo volendo. Eccolo qua. Ah, ci sono solo loro due disponibili. No, allora vado solo con Jeb. Andiamo! Allora, ci siamo qua dovrebbero essere i bagni onsen e il festival è dov'è? Ah, qua davanti! Proprio davanti alle funivie. Eccolo qui. Si presenta così, chiaramente, tutto innevato. Diciamo che è la zona dove voi poi salite per andare, vedete, nella funivia. C'è la neve e basta, non c'è altro fondamentalmente. I giochi, i chioschetti, questo personaggio. vediamo a Chan con cui si può fare il bagno della montagna, no, il ballo della montagna. Ma io intanto voglio rilassarmi nelle sorgenti termali, if you know what I mean. Ah, mamma, questa devo immortalarla. Aspettate, eh, perché devo scendere, devo zoomare, e ci sono i cosi là in mezzo. Mannaggia il demonio. Ah, che fatica a vivere. Ora ricominciamo come se nulla fosse successo. C'è lei che ha una faccia. e cosa possiamo fare? Qua dentro c'è a parte cos'è? Tipo una vasca idromassaggio ma più in grande? Come lo faccio io? Ma più in grande? No, come lo fate voi ma più in grande? beh, è molto bello comunque è che pulisci cosa vuol dire pulisci? Cioè, posso pulire le sorgenti? Sul serio? Cioè, ossessiva compulsiva fino all'ultimo? c'è l'acqua onta fatemi capire cosa mi sta a significare quel pulisci ma no quanti festival che cominciano ad esserci ah, ci butti dentro qualcosa forse non lo so nel dubbio devo farla vivere siamo già amici con Jab Harris eccolo qua amicizia sì siamo amici che succede? sorgenti sporche no l'acqua naturale dovrebbe avere un aspetto un po' più pulito di così no eh, sì ah, non le hai pulite forse perché c'è gente dentro sì credo di sì no è che mi dispiace lasciarle sporche ah ecco di che colore dovevano essere ah va che lavori allora abbracciamolo guardate che fisichetto Alice allora ci facciamo anche una sciata cosa dite? proviamo siamo qui è sera però basta chiacchierare che il suo è magna e ore aggiungiamo la la e ci facciamo una bella sciata olè allora facciamo sci una volta dai modalità media insieme quindi parte prima uno e poi arriva l'altro vabbè ok li abbiamo affittati visto che noi non li abbiamo l'hai presa proprio cico cico con con la con la cosa ah ahia eh lo dico anch'io e Jeb come sta andando? pensavo fosse dietro di noi che fine ha fatto? dove sei finita tu? vai qui insieme vediamo se arriva ah ecco ti qua Jeb pensavo fossi morto no magari morto no qua riusciamo a costruirlo insieme visto che qua magari c'è il lampioncino che carini che sono però è che mi dispiace che ne costruiscano una testa una cosa che non ho ben capito onestamente eh insomma l'amicizia con con Jeb è aumentata devo dire allora noi lo salutiamo lo abbracciamo simbolicamente insomma e dopo andiamo a casa prova a rincuorare ma no cosa c'è vabbè è a disagio ma mi sa che gli scappa anche la pipì poverino e vabbè allora io andrei anche a casa e Jeb ci ci vediamo alla prossima ok rientrati paghiamo subito le bollette togliamo il cono alla povera Gracie e dopodiché ci facciamo un bel bagno con la schiuma e andiamo a dormire Francesco è sveglio come un grillo ma mandiamo a far la doccia anche lui e poi gli facciamo pulire un po' di piatti visto che non è particolarmente stanco ah aspettate gli scappa la pipì facciamogliela fare visto che siamo in bagno beh giustamente Gracie si addormenta precisamente sulla pozza d'acqua mi sembra una cosa estremamente giusta sono piatti dappertutto su sta casa è una cosa incredibile ma non solo in sta casa proprio nelle case in generale dei nostri sim sempre costellate da chili su chili su chili di piatti mollati in giro adesso gli faccio cucinare i tagliolini visto che aveva tirato fuori le robe adesso è domenica sono le 4 del mattino quasi ma questa domenica la viviamo un po' più easy ma non hai fame è inutile che te metti a mangiarli che mi dispiaceva buttarli via la viviamo più easy nel senso che ho bisogno che Alice faccia un po' di compiti ok che ha la media dell'otto però insomma è anche giusto che la mantenga noi al momento cogliamo l'occasione per andare a fare una passeggiata con Gracie breve quindi proprio fuori dalle porte di casa come durante il lockdown non potevi allontanarti più di 200 metri dalle porte di casa penso che i marciapiedi siano stati solcati letteralmente ok prendiamo gli avans devo ancora capire cosa vuol dire tetto quotidiano dello stile di vita raggiunto non non riesco a capire cosa vuol dire proprio quella ci ho capito che per ottenere uno stile di vita bisogna fare una determinata azione ripetutamente e soprattutto per mantenere lo stile di vita bisogna continuare a farla e fin qua ci sono arrivata ma non ho capito cosa vuol dire quel tetto dello stile di vita quotidiano lì cos'è c'è ancora posta forse dei regali ah dei semi ah no guarda delle erbacce qui cosa abbiamo piantato ah cacchio abbiamo tolto il blue bomb vabbè io pianto della verdurina di qua allora potremmo piantare uno spinaccio una carottina un fagiolino è fagiolino poi questo no un pisello pensa te e e basta perché con le tre piante non le piante aromatiche io ho un bruttissimo rapporto nella vita reale quindi oh signore la pianta dei rifiuti penso proprio di sì questa qua la levo alla fine dell'episodio vado in modalità costruisci un attimino e la levo 10 e mezza del mattino allora approfittiamo per fare un po' di compiti assolutamente mentre tutta sta roba beh a parte i calzini che sono un regalo magari la vendiamo dove sei? qua fuori che fa pure freddo dai vieni dentro lui cucina sempre in compenso e sto giro hai anche fame quindi ci sta però vai prima a far la pipì dopo mangia vabbè abbiamo no abbiamo capito che qua si rompe tutto ogni 5 secondi mandiamo anche un sms alla nostra nuova amica che dite? tanto per e anche tu manda un messaggino a Jeb che ti chiama? Amanda si ti rispondi lo vuole Amanda Francesco lavora fra un'ora non ci credo non lavora mai ogni tanto capita anche questo è un po' che non teniamo un raduno vuoi venirti a noi? no grazie io vorrei sentire te ma ci sto mettendo due giorni a fare i compiti perché sono ebete e usciamo a godercela no ti invito qua non ho voglia di andare in giro Jeb invita nell'otto attuale eravamo diventati anche amici dell'uomo gatto sembra di essere una puntata di salabanda guardiamoci un film siediti una roba proprio semplice ci guardiamo un film e dopo di che basta io voglio che al momento loro diventino amici bellissimo film li vedo molto interessati sto facendo interazioni a caso che succede ah non le è piaciuto il film lamentati dell'attore ieri abonda un colpo dove vai? va a letto questa ha un ospite va a letto devi andare a letto con l'ospite se proprio proprio if you know what I mean vabbè dai ragazzi siamo in dirittura d'arrivo e adesso io direi che ci fermiamo qua e andiamo a fare un saltino da serena a vedere come è messa giusto per capire quanto manca eventualmente al parto allora ragazzi ha la panza talmente grande che l'ombelicolo sbuca da sotto la gonna ma come vedete manca praticamente niente al parto quindi io direi che all'inizio del prossimo episodio veniamo direttamente da lei quando sta per partorire quindi io comincio a giocare con lei quando è il momento del parto la facciamo partorire insieme insomma vediamo un attimo maschietto femminuccia scegliamo il nome dopo andiamo dalla famiglia a cui effettivamente tocca che sarà amanda e compagnia bella e niente ragazzi io intanto vi lascio qua lasciate un piaccio al video se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo episodio ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti